Si parte con la conferma dello sciopero per lunedì 19 febbraio, quando si fermerà il personale sanitario della Sgallura. I lavoratori della sanità pubblica, quelli della dirigenza medica, che aderiscono alle sigle che firmano la giornata di assenzione collettiva, CGL Funzione Pubblica, Will FPL, Nursing, RSU a Sgallura. Uno stop che potrebbe prolungarsi anche per i martedì e mercoledì successivi. E muro contro muro tra i vertici della Sgallura, ad iniziare dal direttore generale Marcello Acciaro e i sindacati, che bollano come incomplete e non esaustive le risposte fornite dai dirigenti dell'azienda sanitaria durante la procedura di raffreddamento davanti al prefetto di Sassari. Un braccio di ferro che ha portato una spaccatura interna ai sindacati, con la CGL Funzione Pubblica, che non condivide lo sciopero. I sindacati, prima in un sit-in davanti all'ospedale di Olbia e poi nei tavoli istituzionali, hanno elencato i motivi della protesta, tra questi il percorso di riorganizzazione dei presidi sanitari in Gallura, con le piattaforme multidisciplinari, già attivate al Polo dei Torri di Tempio, in via di definizione, al nosocomio di Olbia. Per le sigle sindacali, un atto che non tiene conto delle specificità patologiche e che già oggi inserisce nello stesso reparto discipline chirurgiche con pazienti internistici. Per l'ASL, un'organizzazione doverosa e che garantirà cure adeguate. I pazienti, affetti da malattie e richiedenti il ricovero, scrive l'AS Gallura, saranno presi in carico dai dirigenti medici afferenti alle discipline mediche di riferimento. Lo sciopero segue altri evidenti terreni di scontro, come il declassamento del Paolo Merlo di La Maddalena, prima struttura complessa con 26 posti letto, oggi ridotti a 16. Per l'ASL si tratta invece di un nuovo modello organizzativo, messo a punto per far fronte alla carenza di personale e che avrebbe portato alla riattivazione di tutti i servizi interrotti. Restano poi la mancata attribuzione delle fasce 2022 e la mancata erogazione della produttività generale collettiva 2022 al personale. Per i vertici aziendali sono tutte in fase di definizione.